Punta al grande salto la Carpisa Yamamai Napoli, formazione di calcio femminile che merita in Serie A2 dopo la salvezza dello scorso anno. La società dei presidenti Lello Carlino e Luciano Cimmino, come detto stamane nella presentazione ufficiale, punta la promozione in A1 per riportare Napoli nell'Olimpo del calcio femminile nazionale.